Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti a questa nuova giornata in diretta per seguire passo dopo passo quello che accade per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Oggi sarà una giornata fondamentale, importante perché è previsto il primo incontro tra una delegazione di Kiev ed una delegazione di Mosca al confine con la Bielorussia. Un incontro sul quale il presidente ucraino Zelensky non scommette più di tanto ma ha detto in maniera esplicita non vuole lasciare intentata nessuna possibilità. In un clima per la verità piuttosto teso perché il presidente russo Putin ha predisposto lo stand by in sostanza delle armi atomiche e dunque la situazione è piuttosto tesa. Una giornata che sarà cruciale ha detto lo stesso Zelensky parlando al telefono nella notte con il premier britannico Boris Johnson. Nel frattempo l'Unione Europea ha stretto fortemente sul fronte delle sanzioni, ci sarà uno swift selettivo, è stato deciso per quanto riguarda la Russia, vedremo poi appunto nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora partiamo con le prime pagine dei giornali, naturalmente tutte concentrate su questo argomento. Eccolo qui, il Corriere della Sera, spiraglie, minacce atomiche, incontro Kiev-Mosca mentre Putin annuncia l'allerta nucleare. L'Unione Europea armi ad un paese terzo, è la prima volta, anche questo è stato un momento appunto cruciale nella storia dell'Unione Europea. Missili e soldati, così l'Italia aiuta l'Ucraina. Vediamo anche l'apertura della Repubblica, eccolo qui, Putin sfodera l'arma atomica, vediamo se riusciamo ad aprire la pagina, eccola qui. Kiev circondata, ma Kharkiv resiste, oggi è il confine, primo incontro per la tregua, il leader russo mette in preallerta le forze nucleari. L'Unione Europea porte aperte all'Ucraina armi dall'Italia, Salvini dice di no, ma poi ci ripensa. Naturalmente ci sono le analisi sui giornali di tutto quello che sta accadendo e vari reportage, ve ne segnalo alcuni. Dalla Repubblica, oligarchi e alleati si allontanano dallo Zarre, ancora mezzo milione in fuga verso la Romania. C'è un'intervista a Gentiloni, l'autocrazia è contro, la democrazia è a Parolin, la Santa Sede si offre per il dialogo, dunque una mobilitazione generale. Minaccia atomica, Putin in risposta alle sanzioni allerta il sistema di deterrenza nucleare, armi dell'Europa Kiev, l'Italia chiude lo spazio aereo, capitale sotto assedio. Le delegazioni russa e ucraina si incontrano oggi per negoziare, Zelensky non ci credo, ma dice dobbiamo provarci. A centropagina vedete questa fotonotizia che ci racconta di tutte le manifestazioni che ci sono state in favore della guerra. Qui siamo a Berlino, il mondo grida no alla guerra, si riempiono le piazze dagli Stati Uniti al vecchio continente. Maxi manifestazione a Berlino, manifestazioni che ci sono state in tutto il mondo, anche in Russia, dove tra l'altro c'è stata una raffica di arresti, circa 4.000. Siamo sulla messaggero, l'allerta nucleare non ferma il negoziato, Mosca evoca l'uso delle testate strategiche, ma da oggi le delegazioni russe e ucraine si siedono al tavolo. Delle trattative, più gas algerino e si ha il carbone, il governo riavvia le centrali, oggi è previsto il Consiglio dei Ministri per le misure d'emergenza, monitorate le riserve. Poi c'è la crisi delle forniture dalle zone in conflitto, l'allarme di Coldiretti, manca il grano, prezzi su e scorte esaurite a Pasqua. Apertura del sole 24 ore, eccolo qui, quotidiano economico, anche qui questa fotografia che viene da Berlino, guerra in Ucraina. Putin allerta le forze nucleari oggi negoziati in Bielorussia e poi vedete bloccati SWIFT e banca centrale russa. Von der Leyen, cieli chiusi agli aerei di Mosca, la Unione Europea fornirà armi per la prima volta, restrizioni estese a Minsk. Oggi il test sui mercati, rublo osservato speciale. Apertura del fatto quotidiano, eccolo qui, Putin assediante, assediato, minaccia l'armageddon, guerra in Ucraina. Non si aspettava tanta resistenza a Kiev e in Europa. Ancora anche l'apertura del domani, naturalmente dedicata all'Ucraina, la minaccia nucleare di Mosca per fermare sanzioni e trattative. Il presidente russo con la sponda della Bielorussia mette in stato di allerta l'arsenale atomico, proprio mentre il leader ucraino Zelensky cerca di aprire un negoziato. L'Unione Europea teme una doppia crisi migratoria ed energetica. E poi c'è l'analisi di Cursio Maltese sul domani, l'effetto Ucraina e nuovi dilemmi di guerra per draghi tra Europa e gas. Vediamo anche l'apertura del foglio. Oggi in prima pagina la guerra dell'energia con un colloquio con il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Lo stato di preallarme sul gas, la necessaria svolta europea, le conseguenze del putinismo, le nostre imprudenze del passato. Poche ore prima che le truppe di Putin assediassero Kiev, il ministro Cingolani ci ha detto tutto sui tabù e vizi ideologici italiani in tema di energia e sulle sfide che ci attendono. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentonati studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del giornale. Follia nucleare in cubo dal passato. Putin terrorizza il mondo, ha allertato il sistema atomico di deterrenza. Oggi iniziano i colloqui russi e ucraina, ma la capitale è circondata. Bruxelles fornirà armi a Kiev e il paese entri in Europa. Vediamo anche l'apertura di Libero. Eccola qui l'economia di guerra nascosta. Quanti soldi diamo al nemico dall'inizio dell'invasione? L'Italia e altri paesi europei hanno triplicato gli acquisti di gas russo. Perfino l'America importa dal Cremilino. Soltanto l'Inghilterra ha scelto la linea dura. E oggi si tratta con la bomba atomica sul tavolo. Apertura anche del resto del Carlino. Siamo alla follia. Ora Putin ordina l'allerta nucleare. Il tempo colloqui con vista nucleare. Si lavora per fermare la guerra, ma Putin alza l'allerta atomica. Biden è inaccettabile. Vediamo anche l'apertura della verità. Eccola l'Europa schiere i suoi missili. Incubo atomico sul tavolo di pace. Poi razzi, terra aria e mitragliatrici. Un arsenale in arrivo dall'Unione Europea. Il mattino è trattativa con i missili puntati. Anche qui si parla dei colloqui russi e ucraina. Ma Kiev è circondata e Putin allerta la deterrenza nucleare. Gli Stati Uniti proteggeremo noi e gli alleati. Ne arrivo 4 milioni di profughi. E c'è il piano del Viminale. Andiamo nelle pagine interne dei quotidiani. Volevo partire dal Corriere della Sera per leggere insieme a voi una parte di questa intervista. Eccola qui che troviamo a Ian Bremmer, che è il politologo e scrittore americano. Una minaccia seria come a Cuba nel 1962 servono in via di fuga dall'escalation per quanto riguarda i colloqui che ci saranno questa mattina tra questa delegazione di Kiev e quella di Mosca. E la mossa di un leader con le spalle al muro occorre concedere qualcosa che consenta a Putin di fare un passo indietro senza perdere la faccia. E appunto gli viene chiesto, c'è un calcolo razionale nella sua mossa o visto anche il suo linguaggio brutale Putin ha perso il senso della misura e la capacità di analisi. Un Bismarck che si è trasformato, dice lo storico Paul Kennedy sul Corriere, in un leader dogmatico quasi allucinato. Sicuramente che ha conosciuto il Putin, calcolatore freddo, ma lucido oggi non lo riconosce. Effetto dei due anni di isolamento è malato, non lo sappiamo di certo. Non sembra più avere la capacità di analisi di un tempo. Credo che la sua reazione e l'allerta nucleare abbia due motivi dietro i quali ci sono i suoi errori. Da un lato la sottovalutazione della compattezza dell'Occidente e dell'efficacia delle sanzioni economiche che si stanno materializzando. La banca centrale russa rischia di non poter attingere alle sue riserve. Il rublo crolla, la gente infila davanti ai Bancomat per ritirare i suoi soldi. Sono cose che dal suo bunker non aveva previsto e che lo spaventano. Il secondo fattore è la resistenza degli ucraini. Anche qui ha sbagliato i calcoli, ma non può, dice, tornare indietro. Allora, gli viene chiesto, fino a ieri si diceva che le sanzioni sono inefficaci. Ora sembra che siano più pericolose dei cannoni. L'Occidente ha sbagliato a sostenere l'Ucraina con rappresaglie che possono strangolare l'economia russa. E Bremer risponde no, non ha sbagliato. Anzi, Biden e l'Europa si sono mossi bene e sono rimasti compatti davanti ad un attacco senza precedenti. Bisognava reagire con le sanzioni economiche più dure, una volta escluso l'intervento militare diretto, ma al tempo stesso andava lasciata aperta. Un'uscita di sicurezza, qualcosa che possa consentire a Putin di fare un passo indietro, senza perdere la faccia, una volta capito che ha sbagliato i suoi calcoli. Fare concessioni ad un aggressore che conduce un attacco così feroce? Beh, certamente sarebbe stato più facile cercare una via di uscita prima dell'attacco, ma adesso si tratta di non peggiorare le cose. La resistenza ucraina offre una possibilità. La Russia sta usando solo una parte delle truppe ammassate intorno all'Ucraina. Ha la forza militare di chiudere la partita, ma dovrebbe fare un massacro a Kiev e nelle altre città. Decine di migliaia di civili morti e dopo sarebbe davvero impossibile negoziare. Sarebbe come aver usato l'arma nucleare. Rischiamo di finire in una strada senza ritorno. Torniamo alle sanzioni perché si adottano. In Iran volevamo far cadere il regime degli Ayatollah, non ci siamo riusciti, ma quello era l'obiettivo. Vogliamo far cadere Putin, lui sa di essere il bersaglio ed è pronto a giocare le sue carte estreme. Putin è invulnerabile, non lo sappiamo, le dittature a volte si sfaldano all'improvviso. Putin fin qui è stato spietato con gli avversari. Come se ne può uscire? Come a Cuba concedendo qualcosa che consenta al presidente russo di fare un passo indietro senza perdere la faccia davanti al suo popolo. E questa appunto è l'analisi di Ian Bremmer. E altra intervista che volevo farvi vedere è quella che troviamo, eccola qui, sulla stampa. Eccolo qui a Pietro Parolin, il segretario di Stato Vaticano, che dice Vaticano è in campo per i negoziati, stoppa le bombe o rischio catastrofe. Il segretario di Stato rilancia l'appello al dialogo tra le parti in guerra, segni incoraggianti anche dalle chiese ortodosse che vogliono lavorare per la pace. Ho sentito riferimenti a incidenti che hanno preceduto la seconda guerra mondiale, fanno rabbrividire. Occorrono comunicazioni e ascolto reciproci per comprendere, dice appunto, le ragioni altrui. E gli viene chiesto quali passi occorre fare per scongiurare appunto il pericolo, c'è il rischio di una nuova guerra fredda. E Parolin risponde, bisogna evitare ogni escalation, fermare gli scontri e trattare anche l'eventuale ritorno ad una nuova guerra fredda con due blocchi contrapposti. Se uno scenario inquietante va al contrario di quella cultura della fraternità che Papa Francesco propone come unico cammino per costruire un mondo giusto, solidale e pacifico. Visto che siamo sulla stampa, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccola qui l'intervista a Luigi Di Maio. Eccolo qui il nostro ministro degli esteri. Con le sanzioni isoleremo Mosca e gli oligarchi. Se non fermiamo Putin la prossima invasione sarà in un paese europeo. È l'intervento per la verità di ieri che è andato in onda sul Rai 3 in cui ha fatto un po' il punto della situazione. Putin ha fatto male i conti pensando che Zelensky campasse come Ghani in Afghanistan. E' ancora oggi il Consiglio dei Ministri in Italia. E' pronto il decreto pontero per l'Ucraina. Salvini si smarca, niente armi ma poi frena. E Berlusconi chiama Draghi. Dunque si lavora anche in Italia sul fronte appunto del sostegno all'Ucraina ma anche per quanto riguarda il sostegno ai profughi perché c'è il piano del Viminale per accoglierli corridoi speciali per minori ed orfani coinvolti nella macchina organizzativa alle regioni, il terzo settore e le parrocchie. E la ministra dell'interno Luciana Ramorgese dall'Italia massima solidarietà per la redistribuzione dei profughi che stanno appunto soffrendo. Torniamo sul Corriere della Sera per dare un'occhiata al campo con Kharkiv che resiste e spiazza i russi tra le vittime però purtroppo ci sono anche 14 bambini. Ieri mattina sono suonate le campane a Chieve, a Leopoli e nelle fortezze assediate per dare manforte alle sirene d'allarme liberati i detenuti purché difendano la patria. Quindi c'è una chiamata alle armi veramente di tutti. Sempre dal Corriere della Sera i sabotatori di Putin infiltrati dietro le linee problemi per i tank, manca già il carburante, il cremelino per la prima volta ammette delle vittime. Questa cartina ci racconta un po' qual è la situazione sul campo la resistenza imprevista e le nuove mosse degli invasori che non hanno ancora calato l'asso dell'aviazione, il bilancio sui civili, 352 vittime ucraine dall'inizio dell'invasione. Questa appunto è la situazione. Sul fronte dell'Europa, diamo un'occhiata naturalmente anche a qui, Von der Leyen, forniamo le armi e poi Kiev, entri nell'Unione Europea. È una di noi, un carico ad un paese terzo. È la prima volta, oggi lo stop è mirato a Swift. Isolata la banca centrale, sanzioni alla Bielorussia, mercati, crolla il rublo. Si allunga la lista delle personalità russe a cui l'Unione Europea ha bloccato i beni ed ha vietato i viaggi, ma viene bloccata anche la macchina mediatica. Sputnik e Russia Today, l'Unione Europea vuole oscurare la macchina mediatica del Cremlino. Per quanto riguarda invece le manifestazioni, abbiamo visto le immagini sulle prime pagine dei giornali, le piazze contro Putin e si aprono le prime crepe anche tra gli origarchi. Le sanzioni spaventano i superricchi. La guerra non è nella soluzione, migliaia scendono in strada per la pace, più di 5.000 fermi in Russia, dissensi anche in Parlamento. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso la parola a Paolo Sottocorona che è con noi in studio per il meteo. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno Emanuela. Allora abbiamo una certa quantità di nuvole sull'Italia. Non è mal tempo perché in realtà abbiamo questa zona, vedete che interessa a gran parte del nord, altre verso la Sardegna, altre al sud. E solo queste ultime danno qualche debole pioggia. Quindi sicuramente non è giornata di mal tempo, ma non sarà neanche tutto questo sole. Allora, vediamo la previsione per la giornata di oggi. Vedete qualche pioggia al sud, qualcuno potrebbe anche interessare il medio versante adriatico, forse la Sardegna, alcune zone del nord. Ma sappiamo che quando vediamo queste piccole macchie verdi sono possibili, ma non probabili, le piogge deboli che siano. Però un po' di grigio sicuramente c'è. Nella giornata di domani si definisce un po' meglio questa situazione, perché sul nord-est, sul medio versante tirrenico, quasi sereno, quindi meno nuvole di oggi. Qualche nuvola sulle zone di nord-ovest con le solite eventuali deboli piogge. E poi invece più stabile, più definita, la situazione che prende il sud peninsulare, nord Sicilia e il medio versante adriatico. Ancora interessato da ormai sempre più deboli correnti. Abbiamo visto il vento forte in questi giorni, si è sicuramente calmato, però qualche pioggia c'è. Le temperature un poco sono risalite, quindi non nevica più a quote basse o molto basse. Anzi, vedremo qualcosa alle 8. E questa è la giornata di mercoledì. Tende a migliorare al sud. Rimangono solo delle debolissime piogge. Un po' di grigio sul versante tirrenico. Sul nord-ovest è segnatamente in Liguria forse qualche debole pioggia. Ma insomma, siamo sempre su quel livello di fenomeni. Le minime di questa mattina, in qualche caso ancora piuttosto basse. Siamo andati un po' sotto media, questo non ne sarete accorti. E chiudiamo con lo stato dei mari relativamente tranquilli. Quelli più settentrionali, scendendo al centro e al sud, si trovano ancora dei mari localmente molto mossi. Ma oltre questo non si va. Rispetto ai giorni precedenti, il miglioramento, diciamo, c'è stato. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55. Adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuela Garulli. Da più tardi.